In qualche modo tu fai una fotografia a quello che è il nostro tessuto sociale e poi la traduci in musica e combi di qualche modo un'analisi direi quasi spietata appunto di questi contenuti ma questa è una tua caratteristica già da sempre effettivamente come diciamo che si sposa con questo tema effettivamente tutto quello che è successo a Sanremo neanche a farla apposta quest'anno la scena romana ha dilagato al contrario del 2004 in cui come ho detto prima appunto eri l'unico rappresentante Sì, ma secondo me guarda che Roma ha un po' l'andamento ciclico per cui siamo arrivati a una fase di crescita con dei nomi che c'erano da sempre che si riaffacciano prepotentemente sulla scena musicale sì, saranno un esempio con Cristicchi ma anche Moro che hanno vinto, Pier Cortese e poi ancora che al momento non ricordo ma un po' in tutti i campi, in tutti gli stili quello che soffriamo noi a Roma pur essendo la metropoli più grande d'Italia è che tutte le etichette ormai ci hanno abbandonato e stanno su a Milano come anche i network radiofonici e tanta promozione per cui siamo un po' pendolari e mi scoccia insomma il fatto che pur vivendo in questa grande metropoli non riusciamo a compattarci gli uni con gli altri a fare un po' lungo forza tra di noi insomma, quindi siamo sempre costretti sembra quasi che veniamo da un paesino sperduto quando si tratta di promuovere poi la musica però questo vedo che non succede comunque con te che tra l'altro hai girato tantissimo appunto in questi tre anni gli artisti a Roma sono tanti veramente ce ne sono alcuni molto molto bravi ah c'era anche Silvestre per esempio ecco il pezzo di Cristicchi mi è piaciuto molto e giustamente raccoglie magari anche quello che come sta succedendo a me che è di lavoro seminato negli anni insomma sì diciamo questo qui è stato tra l'altro uscito anche già il libro appunto di Cristicchi che in qualche modo tra l'altro si vende insieme all'album però torniamo a parlare ancora del tuo album appunto Multiculti questo è un album però ti lascio un secondo dalla regia mi dicono che incombe la pubblicità ti lascio per un secondo e ritorniamo immediatamente in diretta va bene stavamo ascoltando Radio Roma appunto stavamo ascoltando appunto EI ma poi la facciamo riascoltare comunque siamo riusciti a ripristinare il collegamento mi dicono la regia bene ancora Piotta al telefono ciao eccoci nuovamente è caduta la linea purtroppo questi sono i mezzi oggi purtroppo siamo un po' in una come dire in una situazione d'emergenza però vabbè l'importante è che la facciamo sì riusciamo sicuramente anche se ho questo fastidiosissimo di lei per cui parlo e poi risento la voce mia dopo tipo mezz'ora perfetto ci proviamo lo stesso insomma ecco diciamo che abbiamo ascoltato come prima canzone prima appunto troppo avanti voglio parlare un attimo di questa canzone che tra l'altro c'è questa canzone sì no dicevo praticamente dato che questo disco è il frutto di tantissimi viaggi ma di un mix appunto anche di ospiti, contenuti, linguaggi, stili, religioni, culture un po' ti ripeto come ho detto poc'anzi appunto è il frutto di una grossa maturazione professionale artistica e in questo tra l'altro tu ti sei avvalso della collaborazione appunto per quanto hai realizzato tutto l'album di grossi personaggi artisti appunto tedeschi, francesi, senegalesi, americani e tra i tanti invece c'è stato anche un rapper appunto un rapper che è uno strano appunto italiano che è Caparezza e infatti con lui hai realizzato questa canzone appunto questo brano che abbiamo appena ascoltato troppo avanti ne vogliamo parlare Tommaso? assolutamente sì per gli otti italiani tra cui appunto Bassi, Turi e Mariangela che ha recentemente fatto anche Sanremo c'è Michele Caparezza e sono contento di aver collaborato con lui ci eravamo conosciuti in occasione del concerto il primo maggio a San Giovanni a Roma e avevo già insomma stima artistica di lui e dal momento della conoscenza anche umana perché insomma è una grande persona con cui mi sono trovato subito in sintonia e quando ho pensato agli ospiti di questo disco tra quelli italiani mi è subito venuto in mente Michele sono contento insomma che è stato che ha accettato insomma ben volentieri e per cui è nato questo troppo avanti che Tommaso è un brano come anche si capisce dal video molto autoironico perché il video per tutti quelli che l'hanno visto ci sia un provetto ballerino con passi di breakdance che stembro io poi in realtà logicamente c'è un piccolo trucco quindi è un po' un essere troppo avanti in questa specie di gioco che è la vita che fa un messaggio a non prendersi troppo sul serio però criticando anche tra le righe sempre come nel mio stile quindi un po' a doppia lettura molte cose che poi della società non mi piacciono per cui dico che appunto che me la vivo in pace un po' come sece Mahatma Gandhi però non mi piace la gente che tace insomma perché a volte questo mondo è un po' come la paglia per cui può prendere facilmente fuoco la protesta se molte cose come in questo momento insomma non girano come credo che sia giusto per tante persone quanto può aiutare la musica il fatto che diciamo in questo mondo che in questo momento è come la paglia appunto dicevi che prende facilmente fuoco vediamo dilagano guerre da tutte le parti tra l'altro guerre in tanti casi completamente ingiustificate e poi i risultati non hanno dato la prova certo, sì sì poi per interessi veramente commerciali a discapito della qualità della vita di tante persone e della giustizia insomma presa con la G in maiuscola no lo so una canzone sicuramente potrà fare ben poco però insomma nel dubbio sicuramente qualcuno pure no verremmo aver criticato Moro perché dice la canzone su una mafia ma tanto la musica che può fare ma secondo me qualcosina può farla e comunque nel dubbio è sempre meglio far vedere che almeno il singolo individuo ha preso coscienza se poi il singolo individuo nel caso specifico fa il cantante e magari la sua presa di coscienza può andare a colpire altre anime ben venga anche se fosse un'anima sola ma sai che c'è io ho preso adesso tu hai preso appunto la canzone di Moro di Fabrizio Moro che ha vinto appunto ricordiamo la sezione giovani del festival diciamo una canzone del genere ascoltarla ti fa in qualche modo riprendere fiducia appunto in quello che quando la fiducia ormai sembra per uno sembra per la persa però in questo lavoro io mi sono spesso confrontato con realtà molto particolari in cui gente cerca giustizia ma dopo tanti anni non riesce a trovarla sembra che questo sia il mondo fatto più che per chi delinque che per le persone oneste pensiamo un esempio per tutti pensiamo alla strage di Piazza Fontana che dopo tanti anni ha visto addirittura i familiari delle vittime doversi pagare le spese legali a volte le situazioni sono vergognose devo dire che uno purtroppo vieni quasi invogliato se non sei forte a compiere anche te degli atti non parlo di atti criminali come questo ma anche cose più banali tipo l'evasione delle tasse perché tanto alla fine chi se ne frega perché il condono prima o poi lo faranno quindi è doppiamente dura da sopportare però confido sempre nel senso di responsabilità insomma delle persone perché poi il microcosmo di responsabilità che è la famiglia si moltiplica fino ad arrivare a una nazione e poi al mondo intero quindi se ognuno in ogni grado di apparizione cioè quella di padre fino a quella di governatore insomma di un paese si impegnasse con il senso di responsabilità credo che forse qualcosa di meglio si riuscirebbe a avere tu hai parlato appunto dell'evasione delle tasse questo mi fa pensare a quello che ultimamente è stato un provvedimento di questo proprio governo di centrosinistra che in qualche modo ha stipulato in qualche modo un accordo con l'opposizione di centrodestra e poi passo parlando appunto dell'indulto dove in qualche modo sono stati abbonati tra virgolette appunto creati finanziari corruzione e concussione e dato che mi approfitto della tua presenza perché oltre a essere un bravissimo musicista rapper sei soprattutto anche un grande osservatore appunto del tessuto sociale tu quel che messaggio sei pronto mi senti? pronto mi senti? Tommaso mi senti? Tommaso? sembra che sia nuovamente venuto meno il collegamento ci sei? ci sei? mi senti? pronto? non so se ci siamo proviamo nuovamente a ripristinare il collegamento appunto con Piotta perché tra l'altro avevo fatto una domanda molto particolare forse non doveva rispondere a questa domanda ricordiamo appunto che abbiamo parlato appunto di quello che è il messaggio appunto che viene dato ai giovani appunto gente spesso sente quasi il bisogno di compiere degli atti tipo come elevazione delle tasse e roba del genere però poi naturalmente ecco nuovamente siamo in linea nuovamente ecco ci siamo ecco abbiamo preso piano